E Claudio, dove sei? Che succede? Vi porto... Abbiamo trovato connessione qua, che è molto importante. Vi ricordate le nostre prime connessioni dall'autostrada M6? Durante una delle quali avete visto un'enorme colonna di fumo davanti? Era un fronte, il fronte ovest, il fronte di scontro dell'artiglieria. Ecco, il fronte era qua, dove sono ora. Questa è Stoianca, il villaggio a cavallo dell'autostrada. L'autostrada su cui si trova questa cittadina, in cui si trova questa cittadina, ha il ponte distrutto. Per evitare l'avanzata fu distrutto proprio dagli ucraini. Vi mostro... Scusate, non gira un attimo. Non mi sta dando il cambio. Ecco, ecco qua. Vedete... Questo, per esempio, è un impatto che ha tutte le schegge da qui sono arrivate verso questo supermercato. Guardate all'interno, questo era proprio il fronte. Pazzesco. Guarda qua. E guardate anche di là, che è ancora peggio. Quello è stato colpito ripetutamente. Quella è una stazione... Guardate i frammenti. Questo per far capire che questi frammenti possono avere in diverse occasioni ucciso le persone. C'è un impatto che è là. Come no? Colpisce con questa forza e con questa devastazione. Lo ridico quando può sembrare scontato, ma non lo è. La gente pensa solo ai proiettili, ma in realtà spesso si muore a causa delle frammentazioni degli edifici intorno a sé. Guardate adesso davanti a me. Ecco, questo è un punto focale. Era una stazione di servizio. Pazzesco. Devastazione. Il famoso affronte ovest. I cavi eletti stanno ristabilendo alcune connessioni. Scusami Claudio, ma quella cosa del ponte che mi hai detto, non ho capito, è stato distrutto dagli ucraini, non dai russi? Sì, sì, il ponte in questione è questo in particolare. La maggior parte dei ponti furono abbattuti dagli ucraini per evitare l'avanzata. Alcuni sono stati bombardati. Portare la strada, sì, ok, ok. Chiaro. Guardate questo. Questo fu appunto uno snodo vitale. Noi eravamo arrivati a due chilometri. Praticamente non siamo mai potuti andare oltre. Ha fatto impressione anche noi passare, perché eravamo costantemente abituati con l'elmetto, con il casco, a dover rallentare, a cercare di far percepire qual era la situazione prima. E ora sembra quasi un'autostrada normale se non fosse per il fatto che non ci passa ancora quasi nessuno e perché oltre quell'autostrada, qui dove vi sto portando ora, c'è il risultato dello scontro, del fronte stesso. Adesso noi ci stiamo recando, cerco di farvi vedere anche la strada, noi ci stiamo recando ad Irpin, Buccia e Gostomel, appunto, che sono rispettivamente in linea alla mia destra, andando sempre verso l'alto. Appunto, quello era il fronte nord-ovest. Qua ci sono diversi militari. A Buccia c'è arrivata un'agenzia che è appena arrivato Zelensky per dare la solidarietà ai suoi concittadini a Buccia. Esatto, esatto. e probabilmente appunto riusciremo a incontrare a quel momento. Questa è la strada. Vediamo se riesco a farvi vedere. Sì, sì. La famosa autostrada. Chiarissimo, chiarissimo. Cioè, tutto quel blocco che tu incontravi sempre in realtà si è risolto in una devastazione e poi un abbandono dell'aria. Claudio, mi tieni informata dove arrivi, cosa riesci a trovare e a vedere, mi raccomando, ok? Certo, vi aggiungo solo una cosa per far capire agli ascoltatori e a chi ci segue. Questa è una liberazione e una libertà. Entrambe le cose. Alcune città sono state liberate dalla controoffensiva ucraina. Altri è il risultato di un mix tra il ritiro delle truppe usse e l'avanzata e la controoffensiva. E in altri casi è una libertà ritrovata dal ritiro stesso delle truppe, come nel caso di Cernobile. Quindi ci sono tre diverse situazioni che stiamo incontrando. Situazioni dove lo scontro ha portato a recuperare, a liberare le aree, quindi aree effettivamente liberate. Altre a metà e altre in cui il ritiro ha permesso la liberazione. Chiaro. Questo è il quadro di tutti questi fronti. Grazie, grazie.